Un vecchio proverbio navajo diceva che non ereditiamo la terra dai nostri antenati ma che la prendiamo in prestito dai nostri figli è un pensiero che dovremmo fare tutti i giorni e non solo il giorno della terra l'earth day il 22 aprile perché è una missione quella di lasciare alle generazioni future la terra così come l'abbiamo trovata e farla a loro godere in tutte le meraviglie della natura l'earth day è one people one planet